Allora, intanto grazie per essere qui oggi. Saluto il sottosegretario Centinaio, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato Vallardi, il Senatore Vallardi e poi ovviamente Zanier o Zanier, come ti fa tu chiamare? Zanier che è il, quando ha il evento diciamo Zanier, e l'assessore agricoltura della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e poi ovviamente l'assessore Canera. Però questo è un di cui importante, perché non era questo il programma, quindi dopo parleremo dei Prosec, della riunione che si è tenuta e ancora in corso questa mattina perché il sottosegretario ha organizzato una tax force, quindi stabile, con tutti gli stakeholders, come si direbbe, i detentori di interesse per parlare di questa partita, ma ne parliamo dopo. Intanto il senso della convocazione invece è quello di fare un punto della situazione sulla vicenda coronavirus. Allora, intanto passerei al bollettino così ci capiamo direttamente rispetto al bollettino. I tamponi molecolari sono 7.111.155, i tamponi rapidi sono 8.973.893. In totale abbiamo sostanzialmente 8.9 più di... no, no, non è questo, scusate. 16 milioni, adesso l'ho fatto a mente, sono circa... oltre a 16 milioni, volevo farvi il conto esatto ma dovevo finirne negli sketch. Numero positivi sono 481.158 e quindi questi sono i positivi dal 21 febbraio 2020, quindi positivi che abbiamo ovviamente numerato, accumulato in una ventina di mesi di coronavirus. Il numero dei positivi ad oggi, voi ricordate che noi eravamo arrivati forse a 8.900 in quarantena, oggi sono 11.003, che sono l'effetto ovviamente di tutto quello che la campagna di screening è molto più aggressiva, addirittura triplicando anche i tamponi per molte giornate, in virtù del fatto che c'è stato il green pass e questo è il risultato. Quindi abbiamo 11.000 persone isolate. Positivi nelle ultime 24 ore sono 336. I positivi si sono ovviamente rilevati con 15.736 tamponi. L'incidenza la vedete diversa dagli altri giorni, 2,13, per un semplice motivo. Abbiamo il cluster di Conselve, 64 anziani, quindi capite che siamo andati a colpo sicuro, visto considerato, dopo l'assessore vi parlerà anche delle case di riposo. E poi abbiamo un numero bassissimo di tamponi, sono stati fatti sostanzialmente tamponi con finalità diagnostica più che con screening. Quindi si sono rivolti a persone sintomatiche. I ricoverati totali sono 257. Sono più 9. I ricoverati in area non critica sono 2,18. E in terapia intensiva 39. Vi ricordo che l'ultima volta, ci siamo visti circa una settimana fa, avevamo una trentina di persone in terapia intensiva, quindi oggi siamo a 39. insomma, sono incrementate le terapie intensive e con una sostanziale, diciamo, ancora tenuta, se la vogliamo definire così, di 257 ricoverati. Però, insomma, ci sono. Le terapie non Covid sono 356, quindi si continua ad operare, a trapiantare, e quindi si utilizzano terapie, diciamo, assolutamente a pieno regime, terapia intensiva in pieno regime, il totale dei morti è 11.834, più 1. I dimessi sono 23.729. Siccome il dibattito, vedo che è sempre un dibattito molto avvincente e interessante sulle terapie domiciliari, vorrei magari che, tra i tanti cartelloni che si fanno vedere, magari qualcuno guardasse anche questi, 23.729 sono i pazienti curati in ospedale, di 481.000 pazienti che si sono curati a casa. Non è vero che le terapie domiciliari non esistono, ma soprattutto non si può vendere la suggestione che è sufficiente a curare a casa. Lo dico, non perché è sottoscritto l'assessore che decidono le cure. Anche qui, varrebbe la pena di dirlo per l'ennesima volta, probabilmente qualcuno al fine lo capirà. Cioè, vorrei ricordare che le cure domiciliari si fanno in base ai farmaci a disposizione sul mercato. Quindi, se tu hai, dico banalmente, la tosse, la terapia che tu puoi fare è utilizzando tutti i farmaci che curano la tosse. Se poi pensi di voler utilizzare farmaci che non curano la tosse, ma che comunque potrebbero avere un effetto anche sulla tosse, ma sono indicate per altre patologie, ma per il prurito, ecco, tu lo puoi utilizzare quel farmaco e lo utilizzi off-label, come si dice. Cioè, lo utilizzi informando il paziente che stai utilizzando un farmaco che non è per la tosse, ma potrebbe avere effetti medenfici sulla cura della tosse, quindi si usa off-label. All'interno di tutto questo contesto è una scelta del medico. A me spiace che si faccia continuamente passare l'idea che c'è qualcuno che vieta i medici. Voglio ricordarne che ne abbiamo 12.000 negli ospedali e 3.500, quanti sono i medici di famiglia? 3.500. 3.500 più i PLS. 3.500. Quindi 3.500 con i pediatri di libera scelta, che utilizzano i farmaci del prontuario, cioè quelli che tu puoi comprare e puoi sommestare in Italia, e i farmaci del prontuario che non sono indicati per quella malattia, cioè il Covid. Se uno usa l'invermectina piuttosto che usa dei drossi clorochino o altro, sono farmaci che si usano magari off-label, cioè che possono dare, secondo quanto decide un medico, degli effetti anche sul Covid, ma non sono espressamente per quel tipo di patologia. Tutto qua. Le linee guida ci sono, il vento non ha la vigile attesa, ma ciò non toglie che il medico decide lui poi al fine se fare la vigile attesa o no. Cioè non è che perché c'è scritta una linea guida, un medico vede morire il paziente perché c'è scritto che bisogna aspettare 48 ore. Cioè c'è chi in 48 ore ha il sintomo che non va alle stelle ma magari regredisce, semplicemente con gli antinfiammatori, l'attacchipirina, quello che volete usare. Noi non siamo medici. Oppure c'è chi in 48 ore si ritrova in terapia intensiva. Di mezzo c'è un medico che valuta la situazione. Far passare l'idea che è proibito toccare il paziente nelle prime ore e che non si possono usare tutti i farmaci, questo non è vero. Lo dico perché a me spiace, soprattutto mi metto nei panni di molti cittadini che magari hanno avuto un familiare che è morto e che magari giustamente facendosene anche una ragione, cercando una ragione, e dicono ma è stata colpa del fatto che non si fanno le terapie domiciliari. Le terapie domiciliari decide il medico. Lo stiamo dicendo da 20 mesi. Tutto qua. Mi spiace perché qualcuno pensa addirittura che gli ospedali non servano a nulla e che quelli che hanno bisogno dell'ospedale siano arrivati in quelle condizioni perché nessuno li cura a casa. Ne abbiamo purtroppo tanti di casi, di persone che comunque anche curate bene a casa da, come si dice, dagli esperti del cura domiciliari fino a che sono finiti in ospedale. Cioè, purtroppo è così. Questa è una patologia che non lascia solo scampo quando ti prende male. Voglio ricordare che 5-7% dei positivi ha bisogno di cura ospedaliere intensive. Ma anche quelli che guariscono, uno su due, ha dei postomi che vengono definiti long covid. Io conosco persone che zoppicano per danni neurologici da covid. Conosco persone che hanno insufficienza respiratoria. Magari ne conoscete, quanti vi dicono, l'ho fatto il covid a casa ma non riesco più a fare le scale. Questa è una frase tipica che sentite. Senza parlare di encefaliti, di miocarditi, di insufficienza renali. Questo è il mondo covid. Noi non siamo degli esperti, però è giusto che si dicano le cose come stanno. Qual è la situazione? Ma sentite, la situazione è presto detta. Se non utilizziamo la mascherina all'aperto e chiuso in condizioni di assembramento, aumentiamo la diffusione del contagio. Oggi abbiamo una situazione che è sotto controllo da un punto di vista ospedaliero. Semplicemente perché, quindi parlo dei ricoveri, semplicemente perché l'effetto dei vaccini comunque ha un effetto sulla comunità che è un effetto importante. Oggi siamo all'84,5% di veneti che si sono vaccinati o hanno intrapreso il loro percorso vaccinale. Mediamente abbiamo 2.500 nuove vaccinazioni al giorno. Ovviamente stiamo, come vi dicevo l'altra volta, raschiando nel fondo del barile. Nel senso che, fatto 100 i cittadini di una comunità, è illusorio pensare che 100 si vadano a vaccinare. Perché comunque ci saranno una quota di coloro che non si possono vaccinare. E ci dimentichiamo sempre che c'è una quota di chi non si può vaccinare. E poi c'è una quota di chi non si vuole vaccinare. Non aspetta a noi fare valutazioni in un regime nel quale c'è la volontarietà. Io difendo l'accesso volontario ai vaccini. Ma sappiamo che nessuna vaccinazione al mondo, per questo parlare di obbligatorietà a me sembra anche, come si può dire, inattuabile, nessuna vaccinazione al mondo raggiunge il gol del 100% depurato, diciamo, da quelli che non si possono vaccinare. Quindi noi abbiamo sostanzialmente una presenza di virus che c'è, perché siamo in pandemia perché quando tu hai gli infetti sei comunque all'interno della pandemia. Vedete che comunque lo screening serve. Abbiamo peraltro potenziato la macchina dei tamponi, quindi vedete, arriviamo anche a 120.000 test al giorno. E questi naturalmente ci fanno aumentare l'incidenza, cioè il numero di positivi su 100.000 abitanti a settimana. Però il nostro elemento è la percentuale di positivi sui tamponi fatti. Vi ricordo, ve lo dico a beneficio, che gli ISS, dopo quella battaglia famosa che abbiamo fatto, che qualcuno non ha compreso, anche qualche vostro collega, e la battaglia dicendo sempre, guardate che è fondamentale l'incidenza sul numero di tamponi di positivi, gli ISS da mesi fa una tabella settimanale, non solo con l'incidenza pura, cioè il numero sui 100.000 abitanti, ma ne fa una anche con l'incidenza percentuale sui tamponi fatti, che è la tabella più importante perché ti dice, in base alla tua mole di tamponi, la verità è che tu ne hai lo 0,8, lo 0,5, il 2, il 3, il 4% di positivi. Non sto qui a parlarvi del fatto che i tamponi si possono fare solo in una direzione, in più direzioni, sono scelte anche di sanità pubblica. Quello che mi interessa dirvi è che ieri e questa mattina abbiamo fatto una riunione, questa mattina presto alle 7 e mezza con tutti i direttori assieme all'assessore, e ne viene fuori fondamentalmente, se devo darvi uno spaccato, una situazione di tenuta al momento del comparto ospedaliero. È innegabile che ci siano incrementi di contagi, dati dalle moltissime e molteplici occasioni di assembramento e di manifestazioni che ci sono. Cioè ci sono due aspetti da ricordare. Il primo è che ci sentiamo dire che non siamo liberi, ma se togliessimo la mascherina facciamo esattamente tutto quello che facevamo prima. Il secondo aspetto, sempre riferito a questo fenomeno, è rappresentato dal fatto che c'è sempre chi dice non preoccuparti tanto sono vaccinato. Cioè sta passando l'idea che la vaccinazione sia un'azione disinfettante anche, no? La vaccinazione serve per, come si può dire, attenuare gli effetti della malattia nel momento in cui tu dovessi contagiarti. O meglio ancora, evitare il contagio, perché comunque c'è un'azione, come si può dire, di barriera della vaccinazione, non ancora sufficientemente pesata. Su questa partita è fondamentale dirlo, è corretto dirlo, se non ci mettiamo del nostro nella tutela, nell'autotutela, quella di comunità, è inevitabile che pian piano torniamo a vedere diffondersi il contagio e se viviamo come non ci fosse un domani, domani arriva, arriva purtroppo. Anche se, magra consolazione, è pur vero che il vaccino un po' ci sta dando una mano, però è pur vero che dobbiamo metterci un po' di impegno. Oggi, fra l'altro, iniziano le vaccinazioni con l'antinfluenzale e la possibilità di farlo anche in doppio con il Covid. Quindi auguro un buon lavoro ai medici di famiglia, fra l'altro, che sono coinvolti da questa partita. È un invito ai cittadini, soprattutto agli over, a chi ha più di 80 anni, più di 70 anni, più di 60 anni, di provvedere, o a chi ritiene, di provvedere alla vaccinazione. Chi ancora non l'avesse fatto, sto parlando di quella del Covid, di valutare fino in fondo. Poi è libera, ognuno fa quello che vuole. Certo è che noi, come si può dire, siamo preoccupati, definiamolo così, siamo moderatamente preoccupati, perché comunque vediamo i dati, è un granellino al giorno, sapete, tu vai a vedere il fenomeno carsico, una goccia ogni secondo, alla fine crea le stalactitis, crea le stalagmiti, e crea tutto quello che è il fenomeno carsico. E questa è una forma di fenomeno carsico, no? Due, tre al giorno, due, tre al giorno, ma noi vogliamo vedere la regressione dell'infezione, no? Due, tre al giorno in più. Ovvio che noi continuiamo a dire che negli ospedali riusciamo a gestire, i nostri direttori oggi ci hanno detto tutti, che la gestione ospedaliera è una gestione sostenibile. E abbiamo anche parlato della terza dose, poi l'assessore dirà che siamo a 102.000 dosi, no? Giusto? 110.000 dosi, e sulla terza dose, la nota rassicurante è che gli aventi titoli ad avere la terza dose nel caso di riposo sono circa il 70% che hanno già avuto la terza dose. Abbiamo chiesto un'ulteriore accelerazione, perché sapete che la letteratura scientifica ci dice che dopo la somministrazione della terza dose, che è booster, no? E quindi è una specie di spinta estrema, si vuole almeno una quindicina di giorni per avere gli anticorpi, diciamo, che sono effetto della terza dose. Quindi abbiamo chiesto di spingere tanto sulle fasce, diciamo, più fragili, che sono quelle rappresentate dai nostri anziani o dalle persone fragili in generale. Quindi questa sarà l'accelerazione che, o meglio, sarà il gollo, sarà l'obiettivo di questa settimana. Consideriamo di fare il giro di boa sulle RSA intorno al 9, 8, 10 di novembre, come è stato detto questa mattina. Il resto, come un fatto, comincia ad esserci letteratura scientifica, c'è qualche articolo scientifico interessante che un ragionamento a livello nazionale lo si debba fare rispetto al test sierologico. O meglio, a verificare, valutando il siero, quindi col prelievo del sangue, verificare la presenza della carica anticorpale che un cittadino ha. E questo ci permetterebbe di andare incontro ai cittadini che magari hanno avuto il Covid e ti dicono ma io ho già i miei anticorpi. Sì, c'è letteratura che dice addirittura che è una carica anticorpale importante e più buona, fra virgolette, di quella creata dal vaccino. L'altra letteratura dice che il vaccino è un booster che serve comunque e bisogna farselo. Però di mezzo cosa ci sta? Ci sta che noi abbiamo il dovere, secondo me, di dire se si può fare un'analisi anticorpale di massa quindi dar modo ai cittadini di fare il test sierologico se si può fare e se ha senso farlo. Ma queste due domande se la prima è di natura logistica barra finanziaria a capire quanto costerà perché capite che un test sierologico significa prelevare il sangue portarlo in laboratorio se non è un tampone. Dall'altro e questo è un problema logistico che io metterei dopo. Il primo tema è la comunità scientifica nazionale il CTS ISS e il Ministero della Salute cosa ci dice rispetto a questo? Perché giustamente molti cittadini avanzano questa istanza che è un'istanza che io ritengo sacrosanta alla quale bisogna comunque dare una risposta. Serve o non serve titolare gli anticorpi? La memoria cellulare che effetti ha sulla reinfezione? Sono tutti temi che dobbiamo affrontare. quindi il mio appello finale che faccio ai cittadini è quello di essere assolutamente prudenti stiamo entrando in una fase critica dal buddista stagionale perché vi ricordo che questo è un virus respiratorio cioè attacca per primi i polmoni ha un comportamento a volte simile a quello del virus influenzale si annida nei bronchi poi nei polmoni magari dà gli effetti più indesiderati che sono quelli della polmonita delle bronchiti eccetera e quindi il tema dell'umidità che è un aerosol spesso che se non è una piazza affollata è il veicolo del virus perché l'umidità significa un aerosol no? e dall'altro le basse temperature che ci portano a stare in casa creano un mix diciamo un substrato molto più favorevole alla diffusione del virus quindi prudenza prudenza estrema tutto qua lo dico nella libertà di andare di uscire di manifestare ci mancherebbe però anche anche se manifesti magari lo fai in maniera come si deve un po' minimo organizzato oppure se vai a una manifestazione ti metti la mascherina evitiamo che accada quello che ho visto che è accaduto a Trieste dove ci siamo ritrovati con un ci sono ritrovati poveri sentivo Federica ci sono ritrovati con un grosso cluster e ecco noi dovremmo evitare questo perché al di là del fatto che uno si infetta e tutte le cose che sappiamo di mezzo c'è un ospedale che se si concentra e si orienta sui malati covid deve abbandonare le altre patologie perché abbiamo visto come funziona questo è il vero tema io non non aggiungo altro farei passerei la parola un attimo all'assessore dopodiché domande e dopo passiamo alla partita del project prego ma io ho poco da aggiungere allora come diceva il presidente terze dosi noi siamo oggi a 110.000 somministrazioni di terze dosi rispetto le categorie che oggi possono fare le terze dosi quindi over 60 vulnerabili sanitari e casi di riposo stiamo spingendo molto sulle case di riposo quelli che potevano fare la terza dose perché sono passati i sei mesi quindi non tutti oggi non tutti i 30.000 delle strutture che sappiamo essere molto fragili e molto vulnerabili da qui quindi anche il cambiamento che noi abbiamo visto repentino dalla settimana scorsa il bollettino di giovedì ci diceva che tra i 30.000 ospiti delle case di riposo avevamo 28 positive il bollettino di stamattina ci dice che sempre tra i 30.000 ospiti delle case di riposo abbiamo 98 positivi perché abbiamo il cluster di Conselve che ha 64 positivi e poi un altro cluster a Vicenza cittadina con altri 25 positivi la cosa la cosa da dire da sottolineare è che sono tutti asintomatici o paucisintomatici quindi vengono gestiti tutti a parte tre persone che sono state ricoverate ma comunque non mi risulta in terapia intensiva ma in area non critica gli altri vengono gestiti tutti completamente all'interno delle strutture quindi sono positivi ma comunque con un'entità molto più lieve rispetto a quella che ci ricordavamo un anno fa circa oggi come diceva il Presidente inizia la campagna vaccinale con l'antinfluenzale con i MMG abbiamo consegnato ogni azienda consegnato ai medici di base del territorio sia l'antinfluenzale sia il vaccino per la terza dose e questo siamo convinti che aumenterà notevolmente il numero di terze dosi teniamo conto che poi noi arriva il grosso delle terze dosi ci arriva adesso perché sono stati vaccinati hanno completato il ciclo completo tra aprile e maggio quindi hanno maturato i sei mesi quindi a novembre effettivamente vedremo un aumentare insomma di questo siamo coscienti delle terze dosi proprio perché hanno maturato i sei mesi l'antinfluenzale si potrà fare anche all'interno dei centri vaccinali nel senso uno andrà in centro vaccinale per farsi la terza dose o potrà chiedere e sarà se uno vuole sempre se le caratteristiche perché voi sapete antinfluenzale over 60 oppure persone insomma con patologia altra cosa invece spendo una parola sul discorso antinfluenzale in farmacia perché sapete che c'è stato l'accordo nazionale conferenza stato-regioni quindi le farmacie possono fare l'antinfluenzale la prima volta che succede come le altre vaccinazioni faranno quelli a libero mercato nel senso anche altre persone che vogliono vaccinarsi possono andare in farmacia acquistare l'antinfluenzale e possono farlo direttamente in farmacia questa è la grande novità grazie grazie mille prego domande prego domande madonna pepe prego sì sì non avevo dubbi prego questa settimana la regione ha dato l'annuncio piuttosto importante che grazie sceglie pista da bob 61 milioni di euro a cortina per le olimpiadi dopo aver fatto una valutazione tecnica indipendente allora la mia prima domanda era questa chi ha fatto questa valutazione tecnica indipendente l'ha fatta fare il l'ingegnere Pellegrini e farà la presentazione io non ho seguito sinceramente quindi non non te lo so dire c'è nel senso che so che c'è una relazione la vedremo ma l'ingegnere Pellegrini ha un rapporto funzionale con la regione no Dio la legge dice anche altro è il dirigente che dispone eventuali accordi gare o altre robe non l'amministrazione tanto è vero che da quando ci sono io non si portano neanche più le commissioni di gare in giunta quindi è un'attività assolutamente che è stata disposta dalla disegna sì ma nessun dubbio che sia una valutazione tecnica ma non è che il tecnico sia sempre indipendente soprattutto se a disporla è un funzionario della regione Veneto e questo che la domanda siccome il presidente ah ho capito chi è questa sembrava che fosse una struttura assolutamente terza rispetto guarda dobbiamo chiederlo all'ingegnere nel senso che faremo una presentazione perché oggi l'ho vista in giunta e mi ha detto che farà una presentazione e si potrebbe sapere oggi chi è questa commissione sì ve lo facciamo dire seconda domanda il sindaco di cesana torinese intervistato a cesana hanno un impianto da 110 milioni di euro un bob che non funziona dal 2012 dice noi avevamo proposto la riconversione del nostro impianto risolvendo il problema dell'ammoniaca quello è un problema il problema di cesana è il problema lo so però adesso nessuno produce più il freddo con l'ammoniaca almeno con questo ma loro hanno un impianto e anche i serbatoi da quello che no ma beh quello sarebbe stato dismesso dice avevamo fatto una proposta tanto che era arrivata ai limiti del masterplan olimpico noi avremmo riconvertito messo a disposizione l'impianto con 15 milioni di euro l'avremmo realizzato poi mi ha dichiarato il sindaco dice poi invece quelli del nord est hanno voluto farla da padrona il nord est si riferiva ovviamente alla regione veneto no guarda io capisco che voi avete necessità di trovare sempre ladri e poco di buono dappertutto però la verità è un'altra che il veneto ha presentato la sua candidatura te lo spiego bene così domani so di leggerlo bene il veneto ha presentato la sua candidatura in autonomia assieme all'area dolomitica trento e bozzano la lombardia ha presentato la sua candidatura il piemonte ha presentato la sua candidatura la prima candidatura presentata è stata quella della lombardia piemonte si presenta a quel punto ipotizzano di fare il milano torino noi in fuga all'ultimo minuto il venerdì sera presentiamo la nostra candidatura sperando che ve lo dico fino in fondo avendo visto milano torino io ho detto questi litigano tra di loro prima o poi e ci siamo presentati a un certo punto vorrei ricordare che il piemonte si defila a quel punto era impraticabile pensare di presentare una candidatura milano cortina e andare a pescare la terza parte che si è defilata e voglio anche ricordare che c'è in corso una manifestazione importante la tp di tennis che è esattamente diciamo una soluzione che poi loro hanno portato a casa quindi il dossier è stato presentato al al cio mettendo assieme le discipline diciamo quelle più caratterizzanti della lombardia e dell'area dolomitica perché noi ci siamo candidati come area dolomitica tant'è vero che il bob di cortina ha un accordo con trento e bozzano sia per la gestione post sia per quello che sono discipline che loro comunque fanno questa è la vera storia non ho altro da aggiungere su questo ma quindi non fu fatta una valutazione di costi perché poi la proposta del Veneto era di spendere 85 milioni tra l'altro ho visto che adesso costa anche di meno 61 se non ricordo male perché poi io sinceramente il dossier non l'ho ancora letto ho visto una sintesi sai il pacchetto delle olimpiadi è un pacchetto chiuso nel senso che è un pacchetto che prevede tutta una serie di misure ovviamente siamo partiti dal bob perché è il più vecchio bob del mondo 1928 che poi prende il nome di questa pista Eugenio Monti sarà l'unico bob paralimpico a livello mondiale ed è un bob che come primo obiettivo è quello di bonificare l'area di Cortina che ha non dico che ha gli stessi problemi perché non abbiamo l'ammoniaca ma è comunque un'area da bonificare perché lì c'è un manufatto che se anche non si nota è in mezzo agli alberi abbandonato con impianti con tutto quindi la bonifica non so costa 10-15 milioni di euro e dall'altro l'altra alternativa che il CIO ci ha proposto il CIO non ci ha mai proposto Cesana ma ci ha proposto proposto ha parlato di Innsbruck ma Innsbruck comunque prevede un investimento che non è proprio irrilevante fermo restando insomma che il pacchetto Olimpiadi significa variante di Cortina variante di Longarone collegamenti intervallivi ad esempio io vedo che tutti si preoccupano del bob nessuno parla di quello che sarà recupero di tutta l'area del trampolino altro grande tema villaggio olimpico eccetera se poi fare i grandi eventi in questo paese significa sempre andare a cercare con l'anternino tutto quello che non funziona buon lavoro cosa volete che vi dica cioè si beh non era l'anternino nel senso che posso capire un contribuente veneto come sono io o altri contribuenti italiani che dicano ma come si poteva spendere un quarto un quarto dei soldi italiani o veneti si ma significava fare le olimpiadi partendo da Cortina arrivando fino a Cesana comunque il sindaco a me ha detto che c'era una trattativa avviata in corso col sindaco Sala anche di Milano che lui ha avuto solo dei problemi con la sindaca Appendino dei 5 Stelle di Torino che non era favorevole a esporre la propria amministrazione si sono defilati i piemontesi punto ma queste cose dovete chiedere a Malagò che ha gestito fra l'altro tutte le fasi per cui è molto più puntuale di me quindi i veneti non l'hanno fatta da padroni insomma hanno solo fatto una loro proposta potrebbe essere un titolo per domani prego potrebbe essere il titolo per domani no non lo so l'abbiamo già fatto l'abbiamo già fatto quindi le domande sono inutile poi avevo l'ultima domanda no no le domande servono sempre si faccio l'ultima domanda lei aveva chiesto spengo una volta ogni tanto lei aveva chiesto un commissario per la pista da Bob adesso ne ha avuti addirittura due perché ha un commissario e un sub commissario e chiedeva anche semplificazioni dell'iter ci sono delle interrogazioni parlamentari che contestano dice allora non si fa più la vassa su questa cosa e non c'è una valutazione ambientale strategica chi è che dice che non si fanno più le valutazioni la senatrice Vanina ha presentato il 19 ottobre ho capito guarda io penso che quando uno scrive al di là della professionalità che ti viene e vi viene riconosciuta debba anche pensare che non può crescere questo paese se partiamo sempre dal presupposto che c'è un ladro dall'altra parte allora guardate io penso una cosa che tutto quello che è il mondo ambientale e l'ambiente deve essere tutto quello che si farà deve essere rispettoso delle regole ma penso che non è che c'è la banda Bassotti che scappa fa il Bob notte e tempo e non si rispettano le regole avranno avranno modo di 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 conferenze di servizio non so quello che faranno avendo io questa visione di distinzione dei ruoli vi dico rispetteranno tutte le leggi perché i commissari ma non perché fare i fenomeni perché abbiamo perso 20 mesi di covid dobbiamo preparare tutto per il 2020 qualcuno ci sarà un responsabile per ogni opera questa questa è l'unica cosa beh perché che poniamo dopodiché leggetela come volete non c'è nessun problema grazie ne hai altre? prego prego buongiorno buongiorno comunque faremo la presentazione ti mandiamo l'invito anzi la farà l'ingegner Pellegrini anch'io volevo sollecitarla su un tema che non è rimesso finora ed è quello che riguarda la visita del presidente del Brasile Bolsonaro nella giornata di ieri che poi è culminata in polemiche ma anche in scontri con le forze dell'ordine a Padova oltre che in contestazioni di opposto segno diciamo da Anguillara Veneta il comune che gli ha conferito la cittadinanza onoraria ecco volevo un po' raccogliere una sua valutazione nel merito di questa decisione di conferire la cittadinanza onoraria a un personaggio insomma una personalità molto discursa molto controversa anche e proprio sul tema della sanità del contrasto al covid e della vaccinazione e poi insomma se lei in qualche modo è stato coinvolto era stato coinvolto aver ricevuto degli inviti a partecipare a questa a queste manifestazioni insomma grazie ma guarda io partirei dalla fine il coinvolgimento è stato forse un mese fa che mi è stato detto mi è stato detto che c'era questa visita io ho detto subito guarda che se durante il periodo del ponte probabilmente non ci sarò a punto poi fra l'altro mi si sono cambiati anche i programmi ma comunque non ci sono andati però faccio faccio due o tre considerazioni la prima stiamo parlando di una visita di un capo di stato piaccia o non piaccia è la visita di un capo di stato la seconda ha tutte le connotazioni di una visita privata non si sono attivate le reti diplomatiche qui da noi nessuno dal punto di vista di rete ufficiale e diplomatica ha fatto alcuna diciamo richiesta di rappresentanza o di incontri istituzionali quindi immagino che il presidente Bolsonaro abbia deciso di mettersi il maionetto e i jeans e andare a vedere il paese natale dei suoi avi terza considerazione che farei nel rispetto degli idee di tutti siamo in democrazia di chi non condivide nulla di quello che fa Bolsonaro e di chi condivide tutto quello che fa Bolsonaro di mezzo c'è diciamo la legge non siamo noi chiamati a celebrare i processi soprattutto quando riguardano fatti di altri paesi io non faccio l'avvocato difensore guardate io ho incontrato Lula per dire ho avuto modo di incontrare Lula alla FAO e dico semplicemente che trovo secondo me poco edificante che si dia uno spettacolo come quello che si è visto ieri ripeto il presidente di un paese così importante che oltre 200 milioni di abitanti che peraltro se andate a vedere il livello di vaccinazioni è sui nostri parametri sono dati del sole 24 ore ma ripeto non voglio neanche dire ste robe mi sembra che sia 5 o 6 punti sotto al nostro però non voglio neanche dire ste robe lasciamole a parte io dico bene sto signore ha dei problemi nel suo paese se la vedrà col suo paese ma non siamo noi chiamati a celebrare o decidere chi si ha torto lui o ha ragione lui tutto qua io penso che a livello internazionale che spettacolo abbiamo dato l'obiettivo era quello di far vedere che Bolsonaro non è gradito dai nostri cittadini beh dovremmo dire da alcuni nostri cittadini uno può protestare ma quando arrivi a protestare a quei livelli penso che ci sia poco lo stadio a giustificare punto non c'è altro da aggiungere io penso solo una cosa che in Brasile è strappieno di Veneti sono parti interi del Brasile dove si parla in Veneto come lingua ufficiale anche nei media in radio in tv io non so se i nostri veneti lo hanno votato o non lo hanno votato ma torno a bomba è un capo di stato che è venuto qui che giustamente è stato ricevuto dal presidente Mattarella dal presidente Draghi o quant'altro punto se cominciamo anche a diventare tribunale internazionale basta che ce lo dica qualcuno e noi ci organizziamo anche con quello non so dopo che qualcuno dice ma la cittadinanza è stata la non cittadinanza sono cose del consiglio comunale cerchiamo di rimettere nel nord delle cose cioè quei cittadini sono democraticamente eletti giusto? allora se quell'amministrazione se ha fatto una cosa che non è gradita alla sua cittadinanza cioè i cittadini di Anguillara immagino che qualcuno fra 5 anni non so quando siano stati eletti dirà no voi no perché avete dato la cittadinanza a Bolzonaro o magari prenderanno più voti perché gliel'hanno data non ve lo so dire però trovo anche poco rispettoso da un punto di vista istituzionale che si vada anche a pignorare sulla scelta di un consiglio comunale infatti io non esprimo le mie idee se sia stato opportuno o meno dare la cittadinanza prendo atto che è stata data la cittadinanza punto tutto qua scusa avete fretta dovete andare adesso facciamo subito altro posso prendere o facciamo a che ora ce l'hai l'aereo treno no ma facciamo facciamo subito poi rispondo dopo così liberiamo anche i nostri ospiti scusatemi proseg venite venite prego allora chiamo il sottosegretario centinaio saluto ovviamente il presidente della commissione Vallardi Zagner che ho già salutato prima e lo pronuncio diversamente Caner questa mattina si è tenuta un'importantissima riunione di questa tax force poi passo la parola al sottosegretario centinaio la partita del Prosec una partita per noi cruciale non solo perché come ho detto questa mattina in apertura della riunione stiamo parlando della denominazione più grande al mondo del Prosecco fa 700 milioni di bottiglie stiamo parlando di una denominazione che ha avuto nel 2009 la riserva del nome che cos'è sta diavoleria è esattamente una pratica europea che permette a una produzione di freggiarsi in maniera esclusiva del suo nome prima del 2009 chiunque poteva imbottigliare del Prosecco e chiamarlo Prosecco oggi non si può più fare anzi dal 2009 non si può più fare siamo il quarto esportatore mondiale 2 miliardi e 300 milioni di euro e questa è la partita di difesa perché noi nel 2009 riserva del nome e 2019 abbiamo avuto anche il riconoscimento come patrimonio dell'umanità anche lì ancora una volta con il nome Prosecco l'altro aspetto è che se passa questo principio che chiunque può utilizzare nomi simili per aggredire dei mercati vuol dire che l'Europa si trasforma in una babele quindi è una doppia difesa la difesa di una tutela del nome che c'è già di una produzione dell'identità e dall'altro di non fare innescare questo principio considerate che anche lo champagne che appoggia la nostra partita vive le stesse difficoltà con i nomi che si assomigliano allo champagne c'è un istruttore c'è un buon dossier noi abbiamo portato ovviamente con i legali le nostre ragioni dopo di che si farà tutta una sintesi col ministero ce n'è una diffondante che è quella che ci sono delle mappe che partono dal 1300 ufficiali che abbiamo che abbiamo consegnato che fa vedere che la città di Prosecco prima di Trieste da allora si chiamava Prosecco quindi è la dimostrazione la prova approvata che il toponimo che ha dato la riserva da nome al Prosecco nel 2009 è lo stesso toponimo che ci dice che si chiamava anche Prosecco quindi non è possibile che altri possano utilizzare lo stesso toponimo questa detta in sintesi io ringrazio il sottosegretario e gli passo la parola prego innanzitutto grazie al presidente Zaia per aver accettato di accogliere l'ultima riunione fondamentalmente della task force che abbiamo istituito a livello ministeriale perché una task force semplicemente perché parlare in questo momento della questione Prosecco e Prosecco la ritenevamo assurda perché semplicemente perché l'Europa è quella che dovrebbe tutelare le denominazioni europee e quindi l'Italia che ha 838 tra doppi GP eccetera quindi denominazioni in questo momento è il paese che ne ha più di tutte e nel momento in cui l'Europa accetta di iniziare un percorso anche giudiziale Luca penso sulla questione Prosec rende non rende merito al lavoro che viene fatto dai nostri territori soprattutto dal nostro paese ma non solamente come diceva giustamente il presidente Zaia non solamente l'Italia io penso la Francia con lo champagne ma pensiamo anche la Spagna pensiamo il Patanegra pensiamo a Montserrano pensiamo a tanti paesi europei che hanno denominazioni e quindi nel momento in cui si apre una questione di questo tipo si apre una falla o si potrebbe aprire una falla a quello che è il sistema delle denominazioni nel momento in cui si accetta la parola Prosec si viene meno all'accordo europeo che c'è sulla denominazione Prosecco ma per noi italiani vuol dire venire meno a tutte quelle 838 denominazioni che potrebbero rischiare dall'oggi al domani di essere attaccate perché domani può uscire il parmigianer fatto non so in Svezia e dopo domani potrebbe uscire la mozzarella di Bufalen fatta a Brema e quindi l'obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di cercare di tutelare sì il Prosecco con l'importanza di un prodotto come questo di un vino io oltre ad avere la delega alle denominazioni ho anche la delega al vino e quindi per me diventa un fatto proprio anche come sottosegretario ma il nostro obiettivo come dicevo è quello di tutelare tutto e tutelare il nostro paese lo riteniamo una questione nazionale chiederemo anzi il Presidente Vallardi ha già chiesto al Presidente Draghi di occuparsene personalmente proprio perché è il Presidente del Consiglio che a questo punto deve diventare oltre che il Ministro delle Politiche Agricole oltre che la nostra task force oltre che la Regione Veneto la Regione Friuli e tutti noi il Ministro il nostro Premier deve diventare un po' il nostro portavoce in Europa e quindi il lavoro che stiamo facendo come dicevo è quello di aver creato una task force ad hoc un gruppo di lavoro mi piace più utilizzare la parola italiana un gruppo di lavoro visto che faccio il sottosegretario al Made in Italy mi piace continuare a utilizzare parole nostrane un gruppo di lavoro fatto da tecnici da tecnici dei ministeri fatto da tecnici delle regioni fatte da tecnici dei consorsi e quindi andremo a dare una doppia lettura una lettura storica che è appunto tutto quanto ha indicato il Presidente Zaia e poi una parte più che altro giuridica burocratica dove andremo a smontare cercheremo di smontare appunto tutte le indicazioni che sono state indicate appunto dalla Croazia abbiamo tempo ancora pochi giorni sembra siano il 20 di novembre se non sbaglio e dentro gli eventi di novembre presenteremo il dossier italiano ci piaceva terminare appunto i lavori in Veneto proprio perché quando si parla di Prosecco si parla di Conegliano Valdo Biadene si parla di consorsi del Prosecco e poi ricordo a tutti che quel giorno a Baku eravamo insieme e insieme dietro di noi c'era la bandiera tricolore e la bandiera del Veneto a festeggiare il riconoscimento da parte dell'UNESCO non possiamo pensare che se l'UNESCO riconosce le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità poi l'Europa invece disconosca quanto è stato riconosciuto dall'UNESCO pochi anni fa grazie se c'è qualche domanda non chiedetemi di Bolsonaro perché era una battuta ho visto produrre Prosecco anche in Brasile però nella stessa vigna quindi questo è per me questo è il nostro obiettivo anche la lotta all'Italian Sounding ho visto in Brasile produrre nella stessa vigna il Prosecco e lo champagne questo è il lavoro che dobbiamo fare che stiamo facendo anche come Ministero quello di aiutare i nostri produttori proprio perché il nemico non ce l'abbiamo solo in Europa il nemico ce l'abbiamo anche al di fuori dei confini europei e fa più male che quello che abbiamo in casa Buongiorno sono Alda Van Zang a Zettino volevo chiedere esattamente se la riunione di oggi che avete tenuto qui a Venezia chi ha partecipato in quanti eravate e se è davvero quella conclusiva fondamentalmente sì è quella conclusiva perché si fanno si danno i punti finali poi è logico che ci saranno magari opinioni al Ministero ulteriori dove cercheremo un attimo di mettere un po' i punti finali in modo da evitare di sbagliare che hanno partecipato hanno partecipato la parte politica che vedete qui oggi e poi i tecnici tecnici del Ministero tecnici di Regione Veneto tecnici della Regione Friuli Venezia Giulia i consorsi le associazioni di categoria perché c'erano anche associazioni di categoria tutto abbiamo cercato di concentrare però tutta la parte poi giuridica cercando di dare delle motivazioni giuridiche senza rientrarci nel tecnico sottosegretario le chance di riuscita di questa opposizione alla Croazia secondo lei quali sono c'è ottimista rispetto alla buona riuscita di questa opposizione o no? io sono un ottimista di natura perché penso che l'Italia soprattutto sulla partita agroalimentare debba andare non solamente in Europa ma in giro per il mondo a testa alta noi dobbiamo essere autorevoli quando ci presentiamo al cospetto dei nostri interlocutori di conseguenza sono ottimista poi però non voglio fare lo sciocco di turno e di conseguenza penso che fino a quando non ci diranno sì ok bollinato bisogna mantenere sempre l'attenzione però abbiamo delle ragioni storiche e giuridiche per poter portare a casa il risultato se no li annettiamo altro ragazzi finiamo con il giro di domande vai via giro di domande dai finiamo chi c'era ancora? Marco? però forse ho rubato la parola prego allora presidente sul tema del covid volevo chiedere questo su Johnson e Johnson c'è un'indicazione ok fuori programma risolto volevo sapere Johnson e Johnson c'è Emma che scusa se volete potete entrare nella sala di là grazie la terza sarà quella buona su Johnson e Johnson io l'ho sentita domanda ok Johnson e Johnson Emma dice che bisogna procedere con la seconda dose volevo sapere anche magari con l'aiuto dell'assessore non lo so quanti sono i vaccinati in Veneto Johnson e Johnson e se ci sono dei tempi per procedere con questa seconda non è arrivata la circolare è arrivata su Moderna sì ma su Johnson e Johnson no però li sappiamo ma non ce li abbiamo qui ok l'altra cosa rapidissima è sempre terza dose e rispetto alle categorie come gli insegnanti cioè ci sono notizie su quando si parte qualcosa o buio totale no per ora siamo i fragili e gli over 60 quindi se un insegnante è over 60 e ha avuto la seconda dose da più di sei mesi può farsi la terza dose ok considerate che prima il passaggio dell'assessore è fondamentale cioè noi entreremo nel vivo delle vaccinazioni in terza dose quando entreranno le seconde dosi di maggio da maggio in poi sono maggio giugno luglio agosto aggiungete sei mesi e quindi si va novembre dicembre gennaio febbraio per ora stiamo ancora facendo riscaldamento a bordo campo perché le prime le seconde dosi di marzo come siate molti avevano AstraZeneca quindi facciamo i tre mesi di salto dalla prima alla seconda cioè stiamo ci stiamo parlando ancora delle prime fasi cioè oggi stiamo facendo terze dosi sulle prime fasi di vaccinazione quelle più povere che abbiamo avuto inizio 2021 no no è che mi ricordo che c'erano la prima fase c'erano le categorie non si procedeva per età ah no ma è saltata quella fase lì non c'è più c'è quindi un insegnante che ha 40 anni non può farsi la terza dose finché non sarà autorizzata oggi quindi va a parecchio fuori sei mesi rischia di andare a parecchio è il comitato tecnico scientifico che decide con AIFA di autorizzare cioè sei fragile sì ma hai 28 giorni a quel punto sei un fragile ok grazie di nulla scusate un attimo solo no sto vedendo se avevo la risposta ma non ce l'ho c'è il magazzino prego prego due domande anche io per chi le fai? rete 4 prego e allora la prima è se secondo lei a livello nazionale c'è un po' di confusione sulla terza dose mi sembra di aver letto qualche sua dichiarazione in cui dice come Regione Veneto siamo pronti però speranza ci dica cosa dobbiamo fare sì ma io pongo una questione che è una questione penso anche di civiltà che il fatto che molti cittadini si pongono il problema di capire se hanno anticorpi a sufficienza che possono evitare la somminizzazione della terza dose oppure no allora tu non è arrivata prima ne avevo parlato ci sono due risposte alle quali bisogna dare due domande alle quali bisogna rispondere la prima ha senso dal punto di vista scientifico misurare la risposta anticorpale prima di scegliere se vaccinarsi o no questo ce l'ha deve dire il comitato tecnico scientifico la seconda se sì quale dovrà essere l'impegno logistico perché significa prelevare sangue farne le analisi e dire al signor Rossi guarda tu sei nel target di quelli che possono ancora attendere però la risposta deve essere in natura scientifica dico semplicemente che da più parti si legge di questa necessità e penso che sia una necessità alla quale debba essere data una risposta a proposito di questo mi collego se qualcuno invece scopre di non avere anticorpi a sufficienza però non è un over 60 che cosa fa resta scoperto in questo momento no allora innanzitutto oggi la terza dose perché chi scopre di non avere anticorpi a sufficienza si dà per scontato che abbia fatto le due dosi se è un under 60 cioè se ha meno di 60 anni oggi non ha possibilità di accedere alla terza dose se ha più di 60 anni ci va basta che abbia fatto la terza dose dalla seconda dose da almeno 6 mesi c'è da dire che io immagino visto che ho considerato che stanno arrivando diciamo le scadenze dei 6 mesi dalle seconde dosi ormai per una mole di cittadini importante sono i 50 anni i 40 anni immagino che entro fine anno a livello nazionale si debba dire se sarà un sì alla terza dose sotto i 60 anni immagino che andrà a finire così oppure no perché stamattina a proposito dei test di cui parlava l'AIFA forse tanti esperti dicono che forse dopo il vaccino non sia più così utile fare il test non so non so questo so che quando tu fai il test per misurare i tuoi anticorpi neutralizzanti ti esce un referto in cui c'è scritto inferiore a non va bene superiore a perfetto non mi ricordo le unità di misura a questo punto c'è da capire che tu abbia fatto il vaccino o non l'abbia fatto c'è da capire se c'è gli anticorpi neutralizzanti oppure no poi è anche probabile che AIFA abbia detto un'altra cosa che c'è chi si fa il vaccino e non ha risposta anticorpale perché vi ricordo quando si dice che un vaccino funziona al 90% ci dice che su 100 persone 10 per 10 acqua fresca cioè questo lo dobbiamo ovviamente mettere in cantiere prego allora sono quelli che sono scritti qua 76 mila ne abbiamo fatti e 26 mila in magazzino sì 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 vi ricordate che noi non abbiamo fatto gli Astra Day e non abbiamo somministrato questo vaccino sotto i 60 quindi noi non abbiamo fatto tanti di questi perché quando facevano in alcune ragioni Johnson & Johnson andava anche per i ragazzi noi abbiamo avuto pochi casi di giovani vaccinati con Johnson & Johnson basta no eccomi prego voce vorrei chiederle lei come sempre ha ribadito che il covid non è finito parlando delle manifestazioni ha detto che è bene farle basta indossare le mascherine però ci sono altri altri pericoli che arrivano d'altrove io mi riferisco a quella quella corriera che è stata fermata sabato a Venezia in cui c'erano 24 turisti positivi in una giornata in cui a Venezia si sono registrate 100.000 presenze, sappiamo gli spazi quelli che sono, per cui le calli erano stipate di gente gratuita senza mascherine. Ma sì, ne abbiamo parlato anche questa mattina, stai parlando dei greci, no? È uno dei grandi temi nel senso che, fra l'altro, quella Corriera ha fatto un bel po' di giri in giro per l'Europa. Noi li abbiamo intercettati, questa è la dimostrazione che fra l'altro il sistema di vigilanza ha funzionato e sono stati tutti ospitati e sono ospitati in strutture, diciamo, protette, fra virgolette, no? Nel senso che strutture dedicate a quelle che comunemente si definiscono Covid hotel, no? E quindi stiamo aspettando la loro negativizzazione, questo è quello che stiamo facendo. Ovvio è che è un mondo sempre più permeabile, dove la socialità ha ripreso a livelli pre-Covid, perché tale è, è inevitabile che se non c'è protezione ci sia la trasmissione del virus. Considerate che in un pulma, semplicemente un pulma che fra l'altro viaggia per ore con un gruppo, con una popolazione, come si direbbe, dal punto di vista sanitario, e ci fosse anche solo un positivo, magari con un'altra carica virale, infetta tutti. Sì, perché non c'è ricambio d'aria, comunque le situazioni sono un po' al limite e magari non c'è neanche l'uso della mascherina in maniera così tanto, diciamo, rigorosa, anche perché poi cosa succede? Quando sei in gruppo, dopo le prime remore, alla fine poi la familiarità porta ad abbassare la mascherina. Vi ricordo sempre che i nostri medici si infettano in percentuale di meno rispetto alla popolazione che non fa, non lavora nelle corsie con i malati di Covid. La domanda è anche sul fatto, naturalmente l'emergenza è stata gestita in maniera straordinariamente efficace dall'azienda sanitaria, però resta il fatto che queste persone si sono sottoposte a tampone perché c'erano due asintomatici, altrimenti si sarebbero mescolate con le 100.000 persone che regiravano per le calli di Venezia. Io ho un'altra cosa che volevo chiederle invece sulla conferenza stampa che ha tenuto il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, che è stato molto severo anche per i termini che ha utilizzato nei confronti di certe prese di posizione. Mi riferisco ai No Green Pass e ai Novax. Io non ho seguito direttamente la conferenza stampa, l'ho sentito ieri sera. Per il Presidente Fedriga la preoccupazione di un amministratore che si è trovato, da un lato, quello che è accaduto, delle manifestazioni che sono assolutamente tollerabili finché non si passa il limite. Dall'altro devi ritrovarsi, e questa è la grande preoccupazione, un cluster. In una dimensione sanitaria come quella di Trieste, ritrovarsi un cluster di un centinaio di persone significa che se ti arrivano un sacco di sintomatici mandi il sistema. Poi forse lascia un po' la mano in bocca perché se tu dici, vuoi manifestare, vaici con la mascherina, ma vedo che spesso c'è una sovrappolizione nella manifestazione di quelli che a marzo, aprile 2020 erano no mask, poi diventano no vax o no qualcos'altro. Quindi in alcuni casi sono gli stessi che si lamentavano perché non volevano utilizzare la mascherina. Perché poi c'è anche questa presa di posizione ideologica contro la mascherina. Io rispetto le idee di tutti, ma il dato di fatto è che lui si ritrova adesso un cluster con centinaio di persone che non è proprio simpatica sta roba. E' d'accordo sul fatto che abbia vietato le manifestazioni fino al 31 dicembre? Penso che l'abbia vietato il sindaco di piazza. Perché è un'ordenanza normale. Diciamo erano tutti assieme. Queste sono considerazioni e valutazioni che fa un amministratore che ha il polso della situazione della sua città. Io non ho una dimensione di quante ce ne fossero di queste manifestazioni, di dove le facessero. Ho visto come voi l'immagine che magari voi da Telequattro avete diffuso, ma nulla di più. Qui rientra come la cittadinanza onoraria nelle prerogative di un amministratore. E sempre su Trieste, Presidente, c'è una mobilitazione in atto che riguarda appunto la città, ma non solo, nel senso che anche a Milano si stanno invece muovendo i commercianti, e cioè quelli che sono favorevoli al vaccino e che non ne possono più dei cortei, dei Novavax e dei Novopass. Lei firmerebbe appelli di questo genere? Ma io, allora, premesso che non ho mai firmato nessun appello in vita mia, no? E lo faccio per evitare proprio che ogni volta ci sia un appello da firmare. Ho risolto il problema alla base. Ma li comprendo fino in fondo. Li comprendo fino in fondo, perché ho visto anche delle interviste di alcune commercianti di Milano e dicono il quattordicesimo sabato che abbasso le serrande. Allora, io dico, la manifestazione pacifica e rispettosa delle libertà altrui deve essere sempre gradita. La manifestazione che obbliga a abbassare le serrande, peggio ancora, io ho sentito delle interviste di alcuni che dicono che è più importante la nostra manifestazione che questi che debbano lavorare, oppure hanno preso troppi soldi dai ristori. Cioè, questo non è più. Allora, io penso che la loro libertà inizi dove inizia quella degli altri e viceversa. Questa è la vera sfida. Dopodiché non mi addentro sui toni che si sentono in queste manifestazioni, perché poi sono toni spesso che non portano alla pacificazione o portano a un conflitto sociale. Cioè, magari solo verbale, io spero, ma non andiamo da nessuna parte con questo sistema. Ci vuole, come vi ho sempre detto, un'azione pacificatrice. Cioè, se una persona non vuole farsi il vaccino è giusto rispettare la sua idea anche se non la condividi, ma non può da lì partire tutto un alibi e tutto un castello di ipotesi per giustificare un'azione. Perché ad oggi non è obbligatorio il vaccino. Voglio ricordare. Presidente, chiedo una cosa io velocemente. Grazie. Una precisazione sull'appello che ha lanciato all'inizio quando parlava di prudenza estrema. Stiamo entrando, dice, in fase critica. Modello matematico che avete? No, non abbiamo modelli matematici, ma ne abbiamo uno on the road che funziona molto di più. Se aumenti, guardate, una settimana fa avevamo 30 persone in terapia intensiva. Oggi ne abbiamo 40. Cioè, vuol dire che abbiamo fatto un 30% in più in terapia intensiva. Se una settimana fa ne avevamo 300, oggi ne avremo 400. Avremmo mandato il sistema in tilt. Perché già 300 si è tirato. Quindi, se questa diventa una crescita esponenziale e che si conferma nel tempo, diventa pericoloso. Per i cittadini, io capisco la libertà, tutti amiamo la libertà, però facciamola con una protezione. La mascherina, insomma, ne vedete anche voi l'immagine, eh? L'ultima cosa, per quanto riguarda le badanti, il problema dello sputnik, cioè di un vaccino che non è... Questo è un problema ministeriale. E quindi deve essere autorizzato per poter riconoscere questa vaccinazione. Non dipende da noi. E' ancora tutto fermo, dunque. Non ha notizie. Grazie. Altro ragazzi? Buon lavoro, grazie. Grazie.